ragazzi io innanzitutto voglio chiedervi scusa a tutti perché so che mi seguite perché parlo di calcio vi rimango simpatico a molti rimango antipatico anzi forse la maggior parte delle persone visto il mio carattere rimango antipatico scomodo però io vi devo chiedere scusa perché so che per voi sono cose poco importanti però se mi volete bene se volete bene a questo canale io vi chiedo un piacere ho bisogno di essere ascoltato non ho mai chiesto non ho io non vi ho mai chiesto nulla giusto non ho obblighi con nessuno perché fondamentalmente io non chiedo abbonamenti non chiedo soldi agli utenti però ho bisogno io per una volta di voi ho bisogno di essere ascoltato questo personaggio che ha costruito il canale sulla mezzogna si è appena risposto da solo con un profilo fake continua a provocare ha fatto capire io sono razzista quando ripeto mia mamma è nata nel vomero aveva un padre imprenditore che aveva un'azienda dal nel vomero che poi dopo si spostò in zona posillipo quindi i ricordi miei e dei miei fratelli si moltipliano tra il vomero e la puglia altra terra eccezionale dove mio padre aveva un suo ex collega e fu trasferito per lavoro quindi diciamo che le mie le ferie dell'infanzia io le ho sempre fatte sono sempre state divise tra tra la costiera amalfitana e la puglia ok ripeto ho bisogno di essere ascoltato questo personaggio continua a provocare continua a mettere il 10 io metterò il 71 visto che lui parla di sud il sud al sud lo sanno benissimo cos'è il 71 perché questo è un personaggio che ha costruito un canale sulla mezzogna fa passare per rispetto di mercato un suo parente chiamandolo sotto nome falso e poi va ad attaccare gli altri addirittura al dato di drogato ad una persona eccezionale tutto ad un pezzo che ho avuto modo di conoscere non avevo mai detto nulla ma lo devo dire ha dato di drogato a quello ha dato di scoppiato a quell'altro toglietegli internet dalla cameretta e allora io a questo punto su instagram metterò il suo video di scuse quando gli chiusi il canale dove piangeva con le larmi agli occhi dove mi chiede scusa e dove dice che si era inventato tutto per farsi ascoltare perché facendo dissing a me lui ha avuto modo di farsi ascoltare perché è scarso non piace a nessuno può fare solo i balletti in mutande non può parlare di calcio non può parlare di inter non può parlare di proprietà lui non sa nulla ha sicuramente qualche informazione così campata in aria ma noi con effembre che mercoledì lo svergogneremo perché questo personaggio è fa male all'inter è brutto vederlo parlare di inter e tra l'altro in cameretta la roba della juve quando eri ragazzino non ce l'avevo io è inutile passi per la foto lo stiscione mentre fai l'animatore che passi lo stiscione dell'inter mentre giochiano i ragazzi non ce l'avevo io la roba della juve mentre eri in cameretta su facebook non le passo io le foto di conti con la maglia della juve ma le passi te ed è tutto documentato ora però basta perché te stai offendendo oltre oltre ad aver usato i morti per la tua credibilità perché te hai usato i morti per la tua credibilità perché te lo sai benissimo che non sei credibile te indirettamente dicendo che io ho parlato male di quelli del sud e ora semen up semen up farà ascoltare anche il vocale di nino melodia dove dice giuseppe non hai mai detto nulla contro quel del sud se lo hai inventato lui visto che nino melodia fa il super uomo no quello è stato mandato via perché faceva le live in canotta no quello che le calculo a quello con i capelli color limone va bene quindi ora nino melodia non ha voluto dire il live che io non ho detto mai quella cosa la lo faremo ascoltare perché è stata offesa mia madre deciduta e mia madre non è che è deceduta 20 anni fa mia madre è venuta a mancare tre anni fa quindi io non voglio io non ho mai fatto il vittimismo non voglio giocare su queste cose ma a me questo questo disagiato ha riaperto una ferita dicendo io ho parlato male di quelli del sud ma io sono nato in mezzo a quelli del sud e stimo tantissimo sia le persone del sud e quelle del nord e quelle del centro ripeto avevo bisogno di essere ascoltato dipende da voi poi la reazione la lascio a voi ciao inter grazie a tutti